Il Regno di Dio è già in mezzo a noi, come ci ha detto Gesù, ma cresce di nascosto, senza fare spettacolo, perché è lo Spirito Santo che lo fa crescere dentro di noi, fa germogliare il seme fino a dare frutto. Papa Francesco lo ha ribadito nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, prendendo spunto dalla domanda che i farisei fanno a Gesù nel Vangelo di Luca. Quando verrà il Regno di Dio? Il Regno di Dio non è un carnevale, risponde Gesù, non attira l'attenzione, e noi dobbiamo chiedere che lo Spirito Santo lo faccia germogliare in noi e nella Chiesa. Il Regno di Dio non si fa vedere con la superbia, con l'orgoglio, non ama la pubblicità, è umile, nascosto e così cresce. Penso che quando la gente guardava la Madonna lì che seguiva Gesù, quella è la mamma, la donna più santa, più santa, nascosto, nessuno sapeva il mistero del Regno di Dio, la santità del Regno di Dio. E quando era vicino alla croce del figlio, la gente diceva, ma povera donna, con questo criminale come figlio, povera donna. Nessuno sapeva. Grazie. Grazie. Grazie.